Vi è mai capitato di sentir parlare di frenulo linguale corto? Bene, negli ultimi anni i pediatri, gli ortodontisti e logopedisti stanno prestando sempre maggiore attenzione per poter diagnosticare questa condizione il più precocemente possibile. Avete presente quando alziamo la punta della lingua per toccare il palato e notiamo una sottile striscia di tessuto che la collega al pavimento della bocca? Ecco, quello è il frenulo linguale. Nei bambini piccoli questa struttura anatomica, se più corta del normale, può causare delle problematiche dovute a una scarsa mobilità della lingua. Questi problemi sono problemi nell'allattamento, quindi nell'alimentazione, problemi nel linguaggio e infine anche dei problemi nello sviluppo dentale. A chi bisogna rivolgersi in questi casi? La mamma che sospetta che il proprio bambino soffra di questa problematica deve innanzitutto rivolgersi al pediatra, il quale la saprà poi indirizzare verso delle figure specialistiche, che sono l'odontoiatra pedodontista, ovvero un odontoiatra specializzato in odontoiatria materno-infantile, l'ortodontista e il logopedista. Quando e come bisogna intervenire? Innanzitutto è importante sapere che non bisogna allarmarsi, infatti il freno linguale corto è una condizione che interessa circa il 10% dei neonati e spesse volte si risolve autonomamente durante la crescita. Nei casi in cui invece il bambino avesse delle difficoltà nell'alimentazione, allora è importante che l'odontoiatra specialista intervenga con un intervento che si chiama frenulectomia. L'intervento può essere eseguito anche con una tecnica laser, è veloce, è in dolore e permette al bambino di recuperare la mobilità della lingua necessaria a un suo corretto sviluppo.